In America lo chiamavano così, era un corpo troppo diverente, si chiamava Batman, e poi è già il buone grafico. Vedete cosa è Batman? La grafica è proprio il colore su schermo, le animazioni, è proprio quello che vediamo. Il design è come strutturato e il diverso. Quindi la grafica di Batman è brutta, però il design è generale. Se il design non è stato fatto male, magari Batman potrebbe andare dappertutto e morirebbe, quindi bisogna essere più facili mentali. Quindi avere una bella grafica, ma un design che ci fa diventare un'altra parte che ci porta molti giorni. Quando si scomodano il gioco, si esibisce altre parti, la narrazione e la scritta. Anche questi elementi vanno a fare tutti vita per vedere, la narrazione è il modo in cui il gioco è raccontato, il modo in cui iniziano e sviluppatelo e viene portato a te. Grazie. Grazie.